Cattura un'occella, fai visitare parenti lontani, prova il parkour, ascolta un T.A.D.X. Cos'è? Non lo so. Andiamo dai paletti. Ulalà, però, Bum Bum mangia un viaggio lunghissimo e spiancante, ma ti ha fruttato parte dell'eredità di un antenato. Però siamo sempre meno salutari. Stiamo andando verso l'oblio. Ecco, fa una passeggiata nel vicinato, venti urini, apre la raccolta fondi, vai a un concerto rocchio, vediamo se la passeggiata ci dà un po' di salute. No, ma come faccio a prendere più salute? Ha interagito con dei parcoli, dispensando quali consigli che hanno ascoltato con attenzione. Poi al triangolo delle bermuda, ascolta musica classica, adotta un gatto, diventa ombra di puto a divano. Adottiamo un gatto, 44 anni, single, cioè gattare ovviamente. Ah, dunque sei una persona da gatti? No, mi è costato meno 75 euro. Cazzo no, non ero foto gratis. Portiamo a spasso la gatta. Ha soffiato ad un cane che è corso via Guaindo. Hai scoperto che la figlia dell'ambiente famiglia della porta accanto ad ora lo spazio. C'è di tuoi libri, parla di stelle pianeti, dille di trovare altri interessi, parla di stelle pianeti. Ti ho ascoltato dall'inizio alla fine, hai dovuto smettere di parlare quando sua madre l'ha chiamata. Allora, visita l'ufficio reclutamento dell'esercita. Vendi la gatta, no? Taglia le unghie alla gatta. Vai ad un club di CDR Fantasy. Giochi di ruolo. Visita l'ufficio reclutamento dell'esercita. A quanto pare, wow, puoi sostenere l'esame, ma dovresti prima potenziare intelletto e fisico. Ma se ce l'ho già tutto agendo. Leggi libri di cucina, provo un sogno lucido. Visita la casa di Harry Potter. Vedo un funerale, no, a mettere giù di morale. Leggi un libro di cucina. Gioca a Life Choices. Eh, ma non lo stai già facendo. Ok. Gioca con la gatta, con un laser, fai i pull-up, allenati da morire, dà un bacio alla gatta. Giochiamo con un laser. E' stato buffissimo vederla dare la caccia al Puntino Rosso. 49 anni. Riprendi una lotta in pubblico. Paga gli studi a tuo fratello. No. Visita la statua della libertà. Compra NFT. Allora, andiamo a vedere se è una delle missioni, poi che gli studi a tuo fratello, che loro lo facciamo. Ma non vorrei spendere tutto ciò che ho. Comprano i fattori, gioca, trovo un tesoro, diventa un libro, insomma, gli studi, sposi, fai un bambino di nozio. Non parli a vedere di dove spagare gli studi. Vivi fino a 100 anni, dipende i diritti degli insegnanti, diventa super statici, non diventa calmo. E' vocale scuro, scuro signore. Dobbiamo farlo. Diventa professionista di scacchi. Gioca ai videogiochi. Ma sì. Ti fa sentire in preda all'apatia, no? Compra un braccio robotico, partecipa a un incontro terrabbiattista, medita, paga gli studi a tuo fratello. Allora, meditiamo. Cosa? Mi è andato giù di salute? Pronto su di calma. Oddio, siamo vecchi. Vuoi trovare un'altra attività da svolgere che metta in pratica le tue conoscenze dello spazio? Ma ormai abbiamo 50 anni, non ci prende più nel... Cioè, abbiamo voluto la nostra madre, dopo... Boh, vabbè. Te lezioni grazie sui ragazzi, scrivi un libro, costruisci un razzo in giardino, scrivi un libro. Ullala, quanti soldi? Si intitola Una vita di spazio. È diventato un best seller che ti ha... Che ti ha guadagnato, non so quello... Che ti ha guadagnato? Vabbè. Stai invecchiando la tua salute inizia? Ti dicono, sì, ma dai. No, voglio... Gratta la pancia alla gatta, combatti l'artrosi, pagagli sto di tuo fratello, che ormai sarà deceduto. Pubblica perle di saggezza sui soggetti. Il pubblico adora i tuoi aforismi. Cucina cibo tipico indiano, vai alle terme, pagagli sto di tuo fratello, abbiamo detto di no. Dati un'oppia rilassante. Ma non abbiamo concluso nulla. Cos'ho sbagliato, non sono riuscita a fare il lavoro degli sogni, non ho fatto nessun lavoro, continuo ad essere universitario. Qualcosa non guada, creatura, aiutami. Cuciniamo cibo tipico indiano che mi farà perdere la salute e morire. Senti, paghiamo sti studi, per favore. Vabbè, per quanto non fa abbastanza soldi. Il tuo generoso gesto ha dato serenità e felicità alla famiglia. Tuo fratello minore ti fa sentire incredibilmente bene. Tua madre è defunta, il cuore a pezzino. Prepara un cocktail, incontra un guru, colora un libro, lava la gatta. Allora, una cosa che mi vorrebbe stare bene è lavare la gatta, che si robirà tantissimo e perderò la vita. Lo sapevo. Si è infuriata e ti ha coperto di gravi e pessime idee, lo sapevo. Vai a una mostra di Picasso, dati allo skateboard. Ha 52 anni, meglio di no. Prega per i soldi, impara i karaoke. Andiamo alla mostra. Ci renderebbe felice, speriamo di sì. Oh, bene. Era davvero fantasioso, quel tipo. In realtà non è stato dipatico Picasso, ma dettagli. Cucina italiana, provo la scultura. Cucina italiana, quindi, vabbè. Prova la scultura, cucina cibo tipica. Allora, proviamo la scultura. Hai scolpito un fantastico busto di te stesso. Partecipò a un concorso di scrittura. A fare un safari, vedeva una fattoria, tu vedi, non gastonetta. Partecipò a un concorso di scrittura. È tenuto una menzione speciale dalla giuria. Tigre la coda alla gatta. Cucina cibo tipico giapponese. Commetti su una squadra di calcio. Comprò un elicottero. Comprò un elicottero. Abbiamo spesso tutti i soldi. Proprio necessario sensazione di delicanza. Comprò un elicottero. Allora, tanto stiamo morendo. Tanto vuoi spendere questi quattro soldi. È che stiamo morendo letteralmente. Guarda, Realti, fai birdwatching. Grezza la catta. Leggi il libro di Gorgone. Ma si leggiamo sto libro. Scusa, ma che gioco è salva di senza detto? Ma dai. Di trucca praticamente. Vi lava il viso, le trucca. E così che si salva di senza detto. Cioè, mi stanno proponendo dei giochi. Ripeto, dovremmo giocarli tutti. Gorgone era una donna impaziente. Che desiderava il successo immediato. Non riuscì mai a ottenere nulla. E dovette. C'era della vita monotona. Ma qual è il punto di questo libro? Siamo noi. Allora, vai all'ospedale. Perché? Provo a pitturare. Ah, perché stiamo morendo. Scaccia gli uccelli dalla veranda. Fa vedere un documento di risolvione alla gatta. Ma dai, perché? Andiamo all'ospedale. Cioè, andando all'ospedale ha perso vita. Stai solo rimandando l'inevitabile. Ma come? Stiamo morendo. 58 anni. Che vita di me? Vabbè. Prova gli esami del primo anno. Ma noi siamo ancora un'università di 58 anni. Ma cosa? Cioè, a quel senso sto. Proponi un appuntamento alla cotta. Cerca amicizie. Svela il mistero delle particelle quantistiche. Ma mai siamo vecchi, quindi... Andiamo a fare... Semma. Sto facendo dei suoni. Prova gli esami del primo anno. Promozioni si va al secondo anno. 59 anni. No. Prova gli esami del secondo anno. Promozioni si va al terzo anno. Yeah. Raggiungi 60 anni. Yeah. Prova gli esami del terzo anno. Potremmo farci la sua finale. Promozioni si va alla specialistica. Ok? Attenzione. Ai meno di 20 punti. Salute il personaggio. Modile raggiungendo lo zero. Cosa? Sulla misterale prova gli esami della specialistica. Ah, posso comprare della salute? Whishoo. Allora, proviamo gli esami della specialistica. Allora, promozione a una live magistrale adesso. Ok, te ne ho in ogni studi. Disoccupato a 62 anni, ho finito adesso. Guarda anche mio padre. Molto bene. Ma sì, se sono tre anni, facciamo amicissime. Vediamo. Hai organizzato una festa e conosciuto ben sette persone. Anna, Giuditta, Tony, Giorgio, Michela, Doriana e Baldo. Ok? Conosci Tony, conosci Giuditta, conosci Baldo. Quasi già sono gli italiani. E coi bui. Allora, Tony, non è tuo amico, ti ho fatto vedere la sua enorme collezione di giochi. A 65 anni, io adoro. Vai a far ricerche sullo spazio. Frequenta Tony, conosci mica. Frequenta Tony. Hai giocato a Grand Theft Auto Mobile. Per tutto il tempo, sembra davvero truccato, ti riesci ai giochi. Hai giocato anche tu e alla fine è stata un'uscita divertente. Questi suoni sono sentimenti avversi da Sam. Chi ha trovato la cioccolata che mi ha regalato? Ci sta schiacciando tutta con il sederino. Fai ricerche sullo spazio, sostieni gli esami di ammissione all'esercito. Conosci Giorgio? E Giorgio mi ispira. Ma siccome stiamo morendo, io andrei a fare gli esami di ammissione all'esercito. È passato l'esame, ora sei militare. Scalare i ranghi e farti strada verso il posto di generale maggiore dell'esercito, finalmente. Con gratulazioni ho tenuto un lavoro. Questo sblocca nuove scelte corretate. Ti consentiranno di avanzare nella carriera. Siamo morti. Vabbè, la prossima vita andrà meglio. Devo ancora capire come funziona. Conosci Doriana? Vai all'ospedale. Rispetta il comando. E all'idea di sotto da militare. Poco rispetto al comando. Il modo in cui saluti superiori tra su da rispetto al tuo atteggiamento è stato notato. Conosci Paldo? Conosci Doriana? Segui la disciplina. Fa ricerche sullo spazio. Segui la disciplina. Sveglia presto a letto. Altrettanto presto. Precisione in Svizzera. E sono morta. Conosci, hanno conosci Giotto? Ne ho deciso da meditare. Scampiamone. Vendi la gatta. Vendi la gatta. Conosci la gatta. No, non fa ricerche sullo spazio. Non c'è neanche la idea. Dovremmo vendere la gatta perché se moriamo chi la tiene? Ok, è stata dura, si parla di te, ma i soldi sono soldi. Non l'ho fatto per soldi. L'ho fatto perché sto morendo. Conosci mi che la cucina cibo, tipico messicano, fa ricerche sullo spazio. Moriremo con quello che ci piace fare, cioè ricerche sullo spazio. Che ci ha portato soldi che non potremmo... Oh, una sola di soldi stiamo morendo, accidenti. Allora, il lavoro come dottorato ti ha dato erudizione su tutto ciò che è cosmo. La tua preparazione è sufficiente per affrontare i test? No, no, no. Dell'agenzia spaziale, ma attenzione, avrai solo due possibilità per riuscire. No, non ho due possibilità, ho solo uno di salute. Facciamo l'esame. Come ultima cosa, facciamo l'esame. Quello che succede, succede. Ce l'hai fatta, puoi iscriverti ai programmi di docensione ora. Il sogno diventerà solo un posto più vicino. Ah, ma non è ancora, mamma. Vabbè, ce l'avevo quasi fatta, ma sono morta. Accidenti. Adesso che ho capito come funziona il gioco, la prossima sarà fatta fatta meglio. Difficile. Non so se si può ricominciare la storia e riprovare, però è bello così. La tua salute è scelsa a zero e sei morta. Va bene. Allora, ti lascio votare nei commenti. Vuoi che riproviamo a realizzare il sogno di Mirjana? Oppure passiamo alla prossima vita? Qualcuno commenti con ripristino al sogno di Mirjana? E qualcuno commenti con prossima vita? E quello, il commento che riceverà più like? Sarà la decisione che prenderemo nel prossimo video? Cioè, o riproviamo a fare questo o ne facciamo un altro? Ok. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia fatto rilassare. Sicuramente ti ha divertito, perché io mi sono divertito troppo a farlo. Potremmo rifare questa o farne un'altra. Non scelgo ancora niente, perché vi lascio scegliere a te, creatura. Ti auguro buonanotte, buon relax, ciao, creatura.